salve gente bentornati oggi goose creek un video tutto dedicato a loro perché vado a parlarvi un pochino faccio quello che ho fatto per gli altri brand e lo faccio anche per la goose creek così da finire di chiudere questo cerchio che oramai siamo siamo giunti al prossimo nomi e chiudere questo cerchio in cui parlo appunto dei dei vari brand che ho visto delle varie novità e visto che sulle novità più estive che è che primaverile di questo brand ci sta bene allora questi sono 3 più 1 dei formati disponibili per la goose creek in quanto candele dico 3 più 1 perché questo è un formato allora questo genere di tappo qui così poi lo si troverà anche su queste giare qui questo è il tappo vecchio quelle nuove avranno questo tappo però come vedete sono due etichette completamente diverse questa è l'etichetta normale classica quasi in alto lo slogan sotto il nome qui qua invece abbiamo un etichetta artwork che ha una linea particolare che riprende le stesse profumazioni del catalogo e non magari profumazioni che non sono più a catalogo ma che ci sono in versione artwork inteso come etichetta ma la quantità di jar contenente contenuta in una jarra grande o in questa è la stessa l'unica cosa il tappo da quel che ho capito nelle jarre nelle nuove jarre della linea normale il tappo sarà per tutte quello nero così la va a caratterizzare in modo diverso allora nella nella goose ci sono questo è sempre come se fosse da contare jarra grande e ci sono quattro formati a me manca la jarra media comunque la jarra grande che è questa qui ha due stoppini sono 680 grammi di prodotto e brucia per circa 140 ore la jarra media che è tipo grande così sono sempre due stoppini e 453 grammi e brucia almeno per 80 ore non ci sono jarre piccole ma si passa direttamente alle fireflies che sono permette sono le lucciole e sono a uno stoppino solo e sono 42 grammi di prodotto queste qua e sono un pochino un mix tra un votivo e una tea light insomma e durano almeno 12 ore poi ci sono le wax melt che sono le tarte in poche parole e sono adotti ovviamente sono quelle da utilizzare sono senza stoppino sono quelle da usare con un dolce essenze sono 59 grammi di prodotto e durano almeno 50 ore fate conto che sono sono spicchi non dico già pretagliati ma quasi e già lo spicchio è decisamente molto tanto potente poi adesso partono alcune foto dei dei profumatori auto i profumatori auto ci sono in diverse profumazioni un po di ripetizione allora ci abbiamo la black leather blueberry line made che sono poi le stesse che poi si ritrovano anche nel catalogo la blue wood oak la dark vanilla bean la day in the sun exil exil arantic pineapple lost at sea match in tosh apple pina colada soft lean and breeze shooting coconut summer slight summer sparkly toasty hot toddy alcune ci sono altre no poi ci sono anche gli room spray e i room spray praticamente sono gli spray appunto gli spray da spustare nell'ambiente ci sono citrus lavender exil arantic pineapple lilac garden minted eucalyptus come profumazioni soft lean and breeze sunset sparkle sweet honeysuckle e white coral ecco e questi passano un pochino i vari prodotti che ci sono per quanto riguarda la goose creek che principalmente sono sono candele poi potenzione room spray profumatori auto e adesso inizio partendo con la linea della artwork a far vedere un pochino cosa c'è all'interno di questo catalogo primavera estate 2018 bene e io inizierei con appunto le la linea artwork allora inizierei dalla prima così allora abbiamo la dream big alias apple barbon una torta di mele ricoperta da caldo caramello riscaldata con un tocco di barbon devo dire che l'ho accesa adesso questa profumazione davvero e in effetti è una mela calda non si sente troppo caramello non si sente troppo il barbon però c'è poi abbiamo la choose happiness ovvero la apple cider buccia d'arancia mandarino e pesca con un cuore dai sentori di caramello e vaniglia family con la apple stiamo un posto con la apple spice il profumo di mele appena raccolte con cannello e chiodi di garofano poi be kind quindi si gentile blueberry cheesecake su così mirtilli una torta fatta in casa ed una calda copertura di burro croccante poi unplug che per me è non bella di più questa etichetta ed è la burl wood and oak un aroma di quercia cashmere legno di sandalo con un pizzico di rosmarino limone e lavanda poi abbiamo la good vibes che in estate vanno vanno sempre di modo queste good vibes le vibrazioni positive e batter cookie dei biscotti e lo zucchero e caramello burroso dorati con un pizzico di crema alla vaniglia poi enjoy the journey ovvero la caramel apple wood e mele verdi con un aroma la cannella sciroppo d'acero vaniglia e legno di cedro poi make the amazing così più o meno carrot cake la torta di carote l'invitante aroma della cannella calda della vaniglia con note di agrumi e noce moscata just brave quindi respira cherry blossom il profumo di sgargianti germoli di ciliegio e il vero e unico aroma di ciliegia ecco qua collect moment not things collezioni momenti e non le cose ovvero la cherry cobbler ciliegie questa qua mi ha sorpreso ciliegie fresche arance scorza di limone unite la nita cannella zucchero biscotti il burro e vaniglia poi sono tantissime queste sono tutte etichette particolari come vi ho spiegato questa che se fosse un pochino più ecco la cinnamon aroma ricco e nostalgico dei baccelli di cannello unito e chiodi di garofano tutte leggere questi insomma poi abbiamo is the little things cosi home le note ricche dolci di cocco con sentori di pino muschio legno e caramello find joy fine joy cosa c'è scritto due ordinari at the ordinary e cranberry è la profumazione perché poi la profumazione la vedete scritta qua sotto è una qua sotto si una tortina fresca limone e frutti di bosco dolcita con zucchero di canna e vaniglia poi abbiamo ci queste qua sono proprio da collezionare le etichette french toast un aroma di pane caldo zucchero e burro con note dolci intense e decise la believe poi c'è la you are loved un aroma dolce alla pesca con sentori di limone e mirtilli di un ricco di vaniglia poi non sono finite qua perché abbiamo tutte queste ovvero cesio dream la lemon vanilla cake batter con questa bicicletta il sentore fresco del limone dei mirtilli ricoperti da una pastella alla vaniglia e macintosh apple in un'etichetta con rise and shine l'aroma tonificante delle croccanti mele macintosh appena raccolte poi abbiamo la just smile che a fuoco lo smile a fuoco così meglio la maple batter il sentore dolce e persistente del burro d'acero scioglierà i vostri cuori in questo scioglierà i vostri cuori in questa fragranza lovis kind con la casetta degli uccelli degli uccellini ovvero la mulberry il profumo di gelso infatti il mulberry al gelso mi pare selvatico con sentori di mela pesca fragola ciliegie mandarino life is beautiful e non facciamo e non si fa riferimento al telefilm l'aroma esotico del paciuli unito al legno di sandalo cedro bianco e cashmere quindi se uno si vuole decorare casa con queste c'è solo che l'imbarazzo della scelta oppure sono anche belle idee per appunto il come regalo peanut butter sugar intenso cremoso burro da arachidi con un tocco di canna da zucchero e vaniglia e se fosse a fuoco sarebbe più bello love grows here poi abbiamo la grateful oddio qui ovvero perfect day quella che c'ho anch'io cristalli di zucchero legno di sandole sensuale ambra per un'atmosfera idilliaca ma veramente poi abbiamo una home sweet home che non è il nome della fragranza ma la fragranza è la pumpkin caramel squirrel cremoso caramello con note di crema di zucca arancia burrosa vaniglia e zucchero scuro poi live simply salted caramel cupcake generoso cremoso caramello e vaniglia ricoperti da una leggera copertura di cristalli di sale marino che fa un pochino il contrasto appunto questo solte questo salato poi c'è blessed blessed benedetto soft linen brisi il profumo di buccato appena steso in una giornata di sole con sentori di limone mela e lavanda poi abbiamo la hello adventure quindi ciao avventure ovvero la strawberry gem e la marmellata di fragole la semplicità della nonno una marmellata e sentori di fragole la pesca e caramello poi abbiamo poi cavallini vide change sì il cambiamento sweet banana bread il sentore di banano adesso non so cosa c'entrano le banane coi cavalli il sentore di banano unita le noci peccar con un tocco di miele caramello e cannella poi abbiamo la tosti no non si vede ecco la la blessed this home e quindi benedici questa benedici 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 questa casa e la tosti hot tod mi sto perdendo room scuro cannelle noci peccano tostate si mescolano room scuro di nuovo in questa fragranza decisa e calda e per finire last but not least abbiamo la warm vanilla cake un irresistibile delizioso torta bianca la vaniglia appena sfornata vi terrà vi tenterà per si leggere sarebbe più facile e queste erano tutte le profumazioni della dell'appunto della della linea della artwork queste invece sono tutte quelle profumazioni disponibili nei vari formati inizierei subito con la banana pudding pudding il budino insomma un cremoso budino alla vaniglia ricoperto da sottili fette di banana una copertura di panna la beach party festeggia l'estate con questo fruttato mix di limone arancia mango mirtillo nero e mirtillo nero e pesca questa che è una novità di cui vi parlerò dopo nello specifico ovvero con la black cherry si vede poco così la black cherry concedetevi il dolce rinfrescante aroma delle scure amarene estive appena raccolte perché black cherry non è ciliegia bensì amarena poi la blueberry cheesecake su così mirtilli una torta fatta in casa una calda copertura di burro croccante questa che è la blueberry lì limeade perché limonata fatta di lime quindi lemonade se fosse limone limeade qualcosa del genere perché di lime succo di limone fresco arance e mirtilli arricchiti poi però qua dice di limone limeade succo di limone fresco arance e mirtilli arricchiti di un tono di zucchero e vaniglia insomma agrumi poi ci sono queste con le chiavi che alla blu road ovvero un aroma di quersa cashmere legna di sandro con un pizzico di rosmarino limone e lavanda poi abbiamo la qui la cherry cobbler ciliegie fresca arance scorta di limone unita cannella zucchero biscotti e burro vaniglia e non si sente la cannella ve lo dico poi citrus lavender rinfrescante lavanda con un tocco di limone mandarino gelsomino e legno di sandalo questa altra novità di cui vi parlerò nello specifico dopo io spero di riuscire a mettere tutto abbastanza visibile con questa cool rain drops una fresca presa che esce dalla foresta mentre la leggera pioggia inizia a cadere dal cielo poi abbiamo la così home le note ricche di dolci le note ricche e dolci del cocco con sentori di pino muschio legno e caramello poi questa qua con l'ombrellino ovvero la cucumber rain una miscela rinfrescata di cetriolo il cucumber e mimosa arricchito da petali di ruggiata ed acqua marina poi vaniglia dark vanilla bean più o meno così lì crema la vaniglia francese unita l'aroma del burro di caramello tostato e noci di cocco e dire che ce n'è per tutti i gusti e si e si la ranting pineapple ovvero ananas fresco con appena tagliato come appena tagliato unita toni più dolci dello zucchero e del baccello di vaniglia quindi insomma ananas poi c'è la georgia pitch ovvero un aroma dolce alla pesca con sentori di limone mirtilli un pizzico di vaniglia è una carellata come mio solito faccio le carellate grapefruit mandarin gli aromi del pompelmo rosa e del ribes unite a quelli più più floreali del ciclamino e della violetta la particolarità proprio agrumi e fiori poi andando avanti abbiamo la lilac in focus la lilac garden l'aroma di fiori di lila del fiore di lotto della magnolia della magnolia del sud e del ciclamino poi meccintosh apple vedete come avevo detto alcune si ripetono l'aroma tonificante delle croccanti mele meccintosh appena raccolte questa che non l'ho però l'ho sentita accesa è davvero interessante la minted eucaliptus quindi menta eucalipto la freschezza dell'eucalipto e della mento in italia aromi più ricercati del bergamotto e della fresia poi abbiamo la old time lemonade il sapore dolce amaro e tem... dolce amaro e temprante di una fresca limonata estiva appena spremuta poi abbiamo qui la patchouli leaves l'aroma esotico del patchouli unito al legno di sandalo cedro bianco cashmere che ha lo stesso patchouli di prima poi abbiamo questa qua che è una figata questa qua perché è la peanut butter sugar intenso e cremoso burro d'arachidi con un tocco di cana da zucchero e vaniglia cioè burro d'arachidi quindi se vi piace burro d'arachidi arachidatevelo e soft linen breeze il profumo di bucato appena steso in una giornata di sole con sentori di limone e mela e lavanda quindi una pulitosa una coccolina pulitosa insomma qui invece c'è del gran cocco perché shooting coconut l'aroma del latte di cocco unito la freschezza aromatica dell'arancia e dell'ananas mi ricordo però anche delle notte verdi all'interno di questa profumazione poi abbiamo la summer slice una macedonia di frutta grumata con toni aromatici del pompelmo mandarine della fragola quindi principalmente frutti rossi arancioni poi la più o meno la sunset sparkle arancia gelsomino e gigli uniti ai toni decisi della scorza di limone del legno di sandola e dell'ambra poi abbiamo un po di fiorita qua che ci vuole che il frangipani ci sta sempre bene quindi l'oningsacol sweet oningsacol per la precisione si mette un po più a fuoco forse ecco una camminata in un sentiero colmo di caprifogli dolci che sprigionano il loro aroma poi abbiamo la sweet peitas che me fa scappare da ridere ma cioè è simpatica però io la sento una profumazione tipo burro aromatizzato ai fiori cioè fantastica sweet peitas cioè nel senso sembra un insulto quello che appena detto invece a me piace davvero cioè non è il fiore classico senti proprio questa cosa cremosa pastosa e la fioritura dei petali di primavera nelle note fresche di cocco coriandole e arance in fiori sicuramente al cocco che che mi devi al tutto altra novità di cui parlerò nello specifico fra poco la tropical daydream una fugue non lussoreggiante paradiso tropicale per una fragranza da sogno poi abbiamo la qua la watermelon patch anguria fresca come appena tagliata unita ai toni energici dell'erba verde i fiori acquatici quindi anguria con sicuramente note verdi e ultima di quelle a catalogo in vari formati abbiamo la combinazione la white coral una combinazione di ribes nero pesca arancia con note di rosa fiori d'arancio gelsomino e fresia come vi dicevo ci sono anche delle limited edition che io ho preso appunto la grateful che poi sarebbe la perfect day che adesso vi vi torno a dire poi ci sono queste che adesso vi vado a mostrare ma nel frattempo e ne sono arrivate altre tipo infatti la la rainbow sugar di cui vi parlerò sempre dopo che avete visto prima rientra tra le limited però non era ancora stata inserita perché magari sono state fatte aggiunte nel corso del tempo quindi non erano ancora state programmata catalogo ma va bene noi cerchiamo di prendere tutto allora questa qui è la black pepper quindi io vi mostro queste qua ovviamente se andate sul sito del negozio oppure contattate la negoziante vi lascio il link sotto ovviamente la negoziante trovate potete chiederle se ha altro perché so che altro è arrivato e la black pepper una quindi queste qua erano quelle programmate che si sapevano ma non c'è solo questo andando avanti black pepper che è questa qua una miscela sofisticata di legni caldi agrumi sgargianti e spezie scure questa che è la blueberry cake donut quindi le ciombelline fatte con l'impasto della torta di blueberry i mirtilli i mirtilli freschi racchiusi in una calda tortina la vaniglia latte crema e burro insomma una pastina c'è pastina nintendo brio scina cherry blossom infatti come la perfect day l'abbiamo trovata prima nelle nella nella collezione artwork lucenti germogli rosa che riviempiono l'aria con un vero aroma di ciliegie con il vero aroma di ciliegie e direi che sono le stesse profumazioni poi abbiamo la lemon peel l'essenza del raggiante fresco limone una fragranza agli agrumi ideali per la stagione estiva ecco qui l'etichetta quella originale quella base della perfect day quindi questo pacchettino con dei fiorellini cristalli di zucchero velluto appena stirato sandalo e la sensuale ambra magari cambiano un attimo le descrizioni poi abbiamo la pineapple la pineapple upside down cake una calda torta all'anno una sapena sfornata che unisce note dolci un tocco grumato e ultima nelle limited edition abbiamo la warm vanilla cake un'irresistibile torta calda alla bianca vaniglia appena uscita dal forno questo forno questa io stessa l'avevo cioè visivamente avevo scambiata per una vecchia fragranza e vi metto la foto perché non mi ricordo più il suo nome cioè ce l'ho ma quando i nomi diventano tanti almeno io inizio a dimenticarmeli e a sovrapporli in modo sbagliato quindi vi metto la foto come vedete la descrizione la foto si assomiglia molto con questa che ho appena descritto di cui ho appena letto la descrizione però la profumazione è completamente diversa quindi sì siamo sempre davanti una torta che sali vaniglia però questa info quest'altra non quella catalogo è molto più pesante questa invece nuova catalogo limited edition io usandola me la ricordo molto più leggera ecco e queste che si muovono non stanno fermine sono un pochino le profumazioni nuove che ho derivanti da questo catalogo anche se questo non è catalogo però è arrivata poco dopo e allora queste qua queste tre qua la fireflies e le due melt sono due profumazioni appunto come avevo detto prima che adesso poi le analizziamo nello specifico sono due profumazioni nuove a catalogo in tutti i formati queste due invece sebbene una abbia l'etichetta normale e una l'etichetta artwork anche se le prossime candele avranno anche anche quelle a catalogo avranno quindi non solo le artwork avranno il tappo almeno questo è quello che mi è stato detto che ho capito e avranno il tappo sempre nero fatto in questo modo qua con così quindi diverso dalla jarra classica nonostante la struttura del barattolo rimanga identica e queste sono due premium sono due limited edition questa con l'etichetta normale questa invece con l'etichetta artwork appunto perché è la perfect day che vi ho fatto vedere prima e niente adesso inizio un attimo con le descrizioni nello specifico allora inizierei con queste tre che sono appunto quelle a catalogo la prima di cui vorrei parlarvi è la cool rain drops allora la descrizione ufficiale dice una fresca brezza che esce dalla foresta mentre una leggera pioggia inizia a cadere dal cielo e note di testa bergamotto spumeggiante ozono acquoso note di cuore salvia sclarea foglie di lavanda note di fondo pepe ambra legni bianchi allora una cosa che mi ha sorpreso di questa profumazione è che il concetto di bagnato c'è ed è molto molto bagnata da spenta non rientra tra le coccolini infatti io sul blog che trovate il link sotto l'ho messa tra le erbettose l'ho messa tra le erbettose perché una volta permette la spiegazione del come funzionano un pochino le note in questo caso secondo me rende bene l'esempio almeno per come l'ho sentita io perché comunque ozono acquoso e bergamotto spumeggiante sono le note di testa che sono quelle che si sentono quando si apre una candela e le note di fondo è sempre difficilissimo sentirle o soprattutto riconoscerle nell'ambiente intendo quindi quando si stappo una candela mi hanno spiegato quelle sono le note di testa quando si accende una candela quindi le note di cuore sono le note che si sentono durante la combustione principalmente ed infatti durante la combustione non la sento più così bagnata come da spenta bensì la sento erbettosa la sento decisamente verde come profumazione infatti mi viene fuori tra i vari sentori la salvia e le foglie di lavanda quindi questi sentori verdi perché salvia è una pianta verde le foglie della lavanda sono verdi comunque io sento queste note verdi erbose di prato proprio che mi escono ovviamente il sentore di bagnato rimane ma non così tanto come da spenta ed è stata un'evoluzione davvero piacevole di questa profumazione che mi è piaciuta un sacco ed è davvero fresca e la lascia cioè lascia allora a me l'umido non piace infatti oggi è una giornata umida che ti incolleresti toccato al muro però dà quella sensazione di umido fresco cioè della freschezza dell'umido che l'umido vero non dà quindi è davvero una buona profumazione secondo me questa qua poi la prossima è la black cherry che è questa qua praticamente la descrizione dice concedetevi il dolce rinfrescante aroma delle scure amarene estive appena raccolte amarene perché non sono ciliegie le amarene sono una sottocategoria delle ciliegie note di testa amarena, mela, croccante, prugna, dolce note di cuore, petali di violetta, zucchero filato note di fondo, ribes, rosso, foglie, verdi conferma, allora non è particolare come può essere una color in drops perché comunque sa di amarena amarena di granita, amarena di amarene fabbri però senza l'aspetto alcolico amarena insomma questo frutto rosso è tondo c'è una profumazione comunque tonda, ben bilanciata e si sa da amarena cioè c'è poco da girarsi intorno se sapete l'odore da amarena, da ghiacciolo dà alla amarena che quando tipo, proprio quelli classici da, quelli da mare quando lo succiate che tirate via tutto questo sciroppo da amarena sentite proprio quella botta dolce esattamente è lo stesso genere di botta che vi esce da questa profumazione molto più classico di quel che si potrebbe pensare questa tropical daydream perché la descrizione ufficiale dice una fuga in un lussureggiante paradiso tropicale per una fragranza da sogno note di testa, ananas fresca, succosa, pera fresca note di cuore, cainetta, guava, foglie di palma note di fondo, bambù morbido, legni tropicali allora se prima ho detto che con la cool rain drops avevo notato la differenzazione tra le note di testa e le note di cuore in questo caso le note di testa permangono anche durante il cuore perché il sentore che principalmente come è tutta segnata che principalmente caratterizza questa profumazione di riflessi ne abbiamo questa profumazione è l'ananas l'ananas che ok insieme alla guava magari e gli altri sentori succo e succosi fruttati vanno a creare comunque un bouquet dolce quando la si accende si sentono anche note un pochino più verdi un pochino più selvatico, un pochino più asprine e sicuramente sono date dalle foglie e per il resto comunque è una profumazione che di base sa di ananas quindi comunque un torneo lentone estivo per questo dico un classicone perché comunque l'ananas è una profumazione facile da posizionare in un contesto estivo d'estate perché sgrassa perché è fresca è fruttata pur essendo dolce non è eccessivamente dolce e comunque viene poi abbinata a questa cartolina perché più che una foto è una cartolina e niente queste sono le profumazioni a catalogo adesso invece passiamo a quelle limited edition queste invece sono, che sono ballerine sono le due profumazioni limited edition questa nella versione artwork e questa nella versione classica allora inizierei questa qua la mettiamo in piedi lì inizierei con la rainbow sugar un po' forse è meglio così a fuoco e intanto me la stappo che a non usare fa sempre bene la descrizione ufficiale dice sogni di zucchero filato un arcobaleno di colori soffici zuccherati notte di testa fragole congelate limone ghiacciato notte di cuore lampone succoso pomelo rosa notte di fondo zucchero filato e vaniglia praticamente par quasi una macedonia invece allora lo zucchero filato e la vaniglia l'aspetto dolce soprattutto la profumazione risalta già da subito e si sente comunque che ci sono un sacco di sentori fruttati al suo interno e la caratteristica è che sembra appunto una caramellina quindi il rainbow sugar si ma a sto punto il rainbow è definito dal fatto di tutti i colori delle caramelle un arcobaleno fatto di zucchero quando voi andate le bancarelle di dolci sostanzialmente ci avete sta distesa in oro sto ettaro di caramelle che alla fine se le mettete tutte in ordine possono fare anche un arcobaleno ed è esattamente a sto punto l'intento della goose creek creare un arcobaleno di zucchero perché comunque lo zucchero di solito ok è vanigliato sa di zucchero zucchero però alla fine molti dolcetti sono al gusto appunto di frutti è buona si sente però praticamente quando la si va a accendere e questa è la svolta ha più un'impostazione da profumo femminile cioè non sembra più cioè all'apparenza a mio avviso si presenta come una diabetica zuccheri, caramelle e più quant'altro quando invece arriva seria all'interno del bruciatore tartizzata perché l'ho sia tartizzata che messa sotto la lampada questa mi diventa praticamente una mala femmina sembrano un pochino quei profumi tipo dell'acquolina per intenderci come dolcezza quelli lì che sono davvero tanto tanto dolci e potenti però rimangono anche molti rimangono anche davvero fruttati e quindi per me questa qua è una mala femmina decisamente colore fantastico comunque l'altra profumazione invece è la Perfect Day infatti nella nelle etichette artwork il nome lo trovate qua sotto che si vede poco ma perché così non va ad intaccare un pochino il complesso appunto dell'art del disegnino allora le artwork avevano solo loro questo tappo come vi ho detto questo qua poi andrà a caratterizzare ogni ogni anche anche il formato cioè il formato la jarra è la stessa cambia solo l'etichetta ma il tappo verrà utilizzato anche nelle nelle jarre quelle quelle continuative quelle con le etichette classiche allora la descrizione di questa che ve l'ho letta prima ma ripetiamo è cristalli di zucchero legno di sandole sensuale ambra per un per un'atmosfera idilliaca e note note di testa ambra calda sandalo cremoso note di cuore ambra sensuale cristalli di zucchero note di fondo pelle scamosciata spazzolata muschio chiaro praticamente a me ricordo un sacco adesso mi metto la foto l'autumn romance sempre della goose creek secondo me ci sono un sacco di note in comune quali ambra e sandalo in questo caso però per mente è la versione per chi già la conoscesse è la versione un po' più leggera un po' più aperta un po' più estiva appunto di quell'altra autumn romance io sento anche un qualcosa tipo di fiori di base c'è quest'ambra e questo sandalo cremoso che pure uscendo pure uscendo più che altro essendo posizionati in alto o comunque nelle note di cuore quindi l'ambra ci sta invece il sandalo di solito che è una nota solitamente che si trova nelle note di fondo invece in questo caso è posizionata nelle note di testa però è una profumazione davvero intensa pesante cioè pesante nel senso come interpretazione perché comunque quando la si va a accendere rimane comunque davvero piacevole nell'aria la riempie è una profumazione totalmente è una coccolina io la metto anche se non l'ho ancora inserita questa nel blog male però per quanto comunque se vi capita di sentirla è tosta come profumazione però quando la si va a accendere non è pesante intanto i cagni abbaiano non i miei è pesante da spenta si sente che è bella tamugna però quando la si va a accendere stavo dicendo stavo provando a dire non è così faticosa da sopportare cioè non è di quelle proprio che dici oh che pesantezza no è l'ambra comunque per quanto un sentore caldo in estate ci sta molto bene e questa comunque una profumazione non me l'aspettavo così non me l'aspettavo così vedendo l'etichetta della appunto della jarra con l'etichetta quella normale non me l'aspettavo assolutissimamente così però mi ha sorpreso ed è davvero davvero buona ed è una profumazione davvero davvero femminile a mio avviso e niente questa è stata un pochino la spolverata l'infarinata generale di quello che avevo visto ad Omi finalmente ho concluso questa serie di video direte voi queste sono invece le recensioni delle novità appartenenti a questo nuovo catalogo che ho preso ovviamente non ci sono solo queste ma ce ne sono anche delle altre infatti sotto vi lascio il link del sito dove io ho preso tutto questo il sito di Tatiana Battaglia il link del sito della paginetta facebook dove ovviamente ci sono dove io ho preso queste ma ci sono altre profumazioni ne sono arrivate anche di recente di nuove sotto ovviamente l'info box vi lascio anche il link della pagina facebook del blog della paginetta instagram e ovviamente se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like oppure commentate se avete qualche domanda iscrivetevi al canale qua sotto se non l'avete ancora fatto e ritenete che i miei video sono abbastanza carini da poter seguire e niente io vi saluto e vi dico che ci vediamo presto in un altro video ciao